ciao a tutti amici di esperienza nobile siamo in compagnia di motorola moto g 2014 e motorola moto g prima generazione accendiamoli cercherò di essere rapido in quanto i due telefoni sono veramente molto molto simili quasi identici partiamo con le caratteristiche tecniche prima vi dico che però motorola moto g prima generazione ci sono due versioni questa è la prima in assoluto quindi 8 gigabyte non espandibili c'è anche la 16 non espandibili e poi qualche mese fa è uscita la versione con lte e memoria espandibile quindi qualche cosa in più rispetto a questo il nuovo motorola 2014 invece vi dico subito che ha 8 gigabyte espandibili non ha lte ed è dual sim però immagino che a breve non ci hanno anche una versione secondo me lte partiamo parliamo di display intanto vedete che l'accensione più rapida sul motorola moto g 2014 manca a dire che questo moto g ha ovviamente 6 7 mesi di utilizzo e dalla memoria molto più occupata comunque display 5 pollici hd per il nuovo motorola e un 4.5 pollici hd per il motorola 2013 diciamo entrambi ps quindi densità di pixel più alta sul primo motorola processori entrambi snapdragon 400 quad corda 1.2 gigahertz cortex a7 1 gigabyte di ram stessa gpu adeno 305 8 gigabyte di memoria interna in questo caso espandibili non espandibili a meno che non sia la versione lte appunto fotocamere qua una piccola variante 5 megapixel sul primo motorola 8 megapixel sul nuovo motorola entrambi da notifica batteria non rimuovibile su entrambi da 2070 miliampere e anche l'autonomia è molto molto simile sblocchiamoli andiamo ad alzare la luminosità allora mettiamo su entrambi diciamo al massimo in questo qua non c'è la sim in quanto l'ho tolta per testare un altro telefono ok parliamo subito di interfacce come vedete due interfacce un po diverse sono due launcher diversi qua abbiamo un launcher per internet cd android gelli bing qua abbiamo un launcher di android kit 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 quindi quello che abbiamo trovato per esempio sul nexus 5 abbiamo il toggle scusate intanto qua qualche lag perché sta aggiornando le applicazioni purtroppo non me ne ho accorto comunque toggle rapidi andiamo sulle impostazioni su telefono android 4.4.4 per entrambi perfetto fluidità molto molto buona su entrambi vedete nessun tipo di lag anche dopo molti mesi utilizzo questo qua risulta comunque abbastanza fluido e attivo vedete e anche il nuovo moto g sicuramente non è da meno tasti virtuali all'interno display altra novità che non ho detto vedete le casse sul moto g 2014 sono anteriore sono stereo sui vecchi motorola erano posteriori e non erano stereo comunque ne parleremo dopo per quanto riguarda l'antenna anche qua molto simili wifi gps eccetera nella media funziona comunque bene e qualità in capsula per entrambi ottima anche la ricezione della sim è molto buona sul moto g prima generazione ed entrambe le sim molto buona sul nuovo moto g quindi da questo punto di vista non c'è nessun tipo di problema andiamo avanti parliamo subito di fotocamera come al solito fotocamera abbiamo detto 5 megapixel contro 8 megapixel stesse impostazioni quindi hdr anche in versione automatica tipo di messa a fuoco video che possono essere fatti in slow motion e possibilità di aumentare due le foto vedete 16 noni 4 terzi su entrambi quindi qua 16 noni sono 5 megapixel 6 megapixel e 4 terzi 8 megapixel stessa cosa sul motorola moto g solo con 5 megapixel massimo vediamo brevemente qualche foto che ho fatto purtroppo ne ho fatte solo due di confronto in quanto tempo è veramente pessimo quindi non aveva senso farne altre la macro vediamo che è venuta meglio sul sul moto g 2014 colori più leggermente più naturali e anche l'esposizione è migliore altra foto classica la casetta quale devo dire che invece sono molto simili alla dire che visto sul telefono possono ingannare in quanto è vero che su un 2 ps avanti colori leggermente diversi per di più qua abbiamo un display più definito quindi sul zoomando potrebbe comunque risultare più definita la foto comunque fotocamera in generale migliore quella del del nuovo motorola moto g anche se non di molto e anche video leggermente migliorati però possono essere ripresi soltanto in 720p come anche sul predecessore andiamo sulla galleria a vedere la videoprova vediamo il solito video di test qua purtroppo l'ha aperto con la mx play e però vabbè non cambia più tanto allora su entrambi frutta ovviamente eccellente non sono problemi di larghe anche su video un po' più pesanti di questo angoli di visione anche qua sono sicuramente identici vedete praticamente gli stessi luminosità massima è assolutamente paragonabile devo dire forse sul nuovo moto g devo dire che c'è qualche riflesso in meno è anche da dire che su questo moto g qua c'è una pellicola e quindi anche quella contribuisce a riflettere e opacizzare un po' i colori in ogni caso i display veramente identici anche come la risoluzione è sempre hd e andando molto vicino devo dire che ovviamente si notano di meno i pixel sul moto g 2013 ma anche su moto g 2014 non ci sono problemi andiamo avanti vediamo un po' i bianchi anche qua bianchi molto simili ripeto che qua abbiamo una cover opaca che vari un po' i colori come neri veramente identici guardate qua non ci sono non c'è alcuna differenza usciamo e andiamo a sentire un po' la musica come si comporta vediamo facciamo partire intanto pompe di qua mettiamo al massimo come si comporta vediamo come si comporta vediamo come si comporta vediamo Grazie a tutti. Allora, come potenza avete visto non c'è che hanno differenze, sono praticamente identici, come qualità forse leggermente superiore a quella del nuovo Moto G che ha le casse stereo e sicuramente la posizione è migliore su Moto G anche quando si vedono dei film, avere le casse anteriormente è un vantaggio sicuramente non da poco. Benissimo. Parliamo velocemente di giochi e benchmark, come benchmark abbiamo lo stesso identico punteggio quindi su 17-18000, su EnTuTu ovviamente. Come giochi anche qui non ci sono differenze, entrambi riescono a far girare praticamente tutti i giochi, qualcuno dei più pesanti magari con qualche piccolo lag, qualche piccolo caudi frame, però ovviamente nulla di che. Quindi anche per gli amanti del gaming, magari non spinti, può benissimo andare come telefono. Ultima prova, andiamo sulle browser, poi farò le conclusioni. Andiamo sul corriere. Qua è già caricato in versione desktop tra l'altro. Entrambi connessi in Wi-Fi. Eccoci qua. Allora, sul nuovo Moto G abbiamo finito di caricare, vedete la fruita molto molto buona, scrolling veloce, senza problemi di rendering o lag. Anche il pinch segue bene, ecco qua un piccolo problema di rendering, il pinch comunque segue bene, abbastanza bene le dita, e anche il pan non ci dà problemi. E' merito anche di Chrome che devo dire essere migliorato con gli ultimi aggiornamenti. Anche sul vecchio Moto G come vedete, fruita pressoché identica, ecco qua un problemino di rendering. Però per il resto siamo veramente a livelli molto molto simili. Ripeto che questo qua ha già parecchi mesi sulle spalle e memoria assolutamente piena, visto che abbiamo solo 8 GB. Perfetto, siamo in conclusione. Batteria, 2070 mAh per entrambi. Col tempo questo qua in particolare è peggiorato un po', però mi ricordo benissimo all'inizio quando lo utilizzavo, mi faceva la giornata senza problemi. E anche questo con una sola sim mi copre la giornata senza problemi. Quindi batterie presso quelli identiche, con due sim ovviamente la durata diminuisce di un'oretta, ma nulla di che. Comunque la giornata si fa. Cosa dire allora? Prezzi di listino al lancio entrambi sui 199€, quindi anche il prezzo è rimasto lo stesso. Online ormai questo qua l'8 GB si trova sui 150 e quello da 16 sui 170. Quindi ovviamente se avete un telefono più piccolo vi consiglio più il Moto G. Questo Moto G secondo me non è un'evoluzione del Moto G prima generazione, ma è semplicemente un altro modello che si affianca a questo telefono, in quanto è un telefono per degli utenti che preferiscono magari un display più grande e che potrebbe anche essere hanno bisogno di un dual sim. Visto che comunque di dual sim ormai ce ne sono sempre di più e lo vedo bene un dual sim comunque con queste caratteristiche che si possono trovare facilmente anche in negozio. Visto che la maggior parte dei dual sim a volte non si trovano oppure sono di marche ai più sconosciuti. Quindi devo dire che anche questa mossa dei dual sim secondo me non è male. Migliorata anche un po' la fotocamera, quindi cosa dire, due telefoni purtroppo identici, uno per chi preferisce comunque tuttora uno smartphone da dimensioni un po' più piccolo e non ha bisogno di dual sim e uno per chi invece vuole un display più grande e magari ha bisogno di dual sim e di una fotocamera leggermente migliorata. Quindi fate voi la vostra scelta, per me sono due telefoni assolutamente paragonabili, io preferisco il Motorola Moto G prima generazione non tanto per, non ci sono motivi particolari. Il mio motivo principale è quello delle dimensioni perché io uso un telefono da 5 pollici, uso lo Xiaomi Mi 4 però qua abbiamo delle conici sicuramente più grandi, in mano comincia a diventare abbastanza impegnativo, siamo a livello di un S5 come dimensioni in generale e per di più è anche abbastanza grosso, un po' troppo grosso. Ok, è grosso praticamente come il primo Moto G, però devo dire che nel complesso sembra comunque più sottile e più compatto il primo Moto G e anche da vedere, nonostante siano praticamente identici, vi assicuro che dal vivo, secondo me, anche tra i miei amici e anche del mio amico che mi ha abbastato questo, il Moto G prima generazione risulta essere un pochettino più bello. Comunque, qua sono gusti personali, non mi voglio ad entrare oltre, per questo video è tutto, se avete domande particolari fatemelo pure nei commenti, ci vediamo nel prossimo recensione, un saluto da Lorenzo per il Suenzo Mobile, ciao!